Il corpo di Yahia Kimi è stato trovato oggi il giovane che si era tuffato nel fiume Seccia nel pomeriggio di mercoledì scorso, quindi perdendo le sue tracce. Il corpo del giovane è stato trovato da una squadra fluviale dei pompieri intorno alle 14.30 di questo pomeriggio. Un'anza del fiume Seccia, circa 500 metri a valle, dal punto cui si è tuffato mercoledì scorso. Un'area nelle vicinanze tramite il cimitero di Cave Marzaggia. L'episodio aveva avuto luogo a pochi metri dalla briglia di Marzagna, vicino al ponte sopra la via. Emilia. Dopo un tuffo. Aveva immediatamente lanciato l'allarme. Iniziando la macchina di ricerca che non si è fermata fino ad oggi quando il corpo è stato trovato. E' recuperato ieri. Sabato 17 giugno. La ricerca si era spostata più a valle ed era necessario chiudere temporaneamente la strada ponte. Alto per consentire al nucleo dei subacquei dei pompieri. Di far cadere le barche gonfiabili in acqua continuare e ricercare.